La 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 che in sei mesi ha prodotto circa 1900 metri quadrati coperti con una realizzazione assolutamente avveniristica di travi lamellari lunghe 35 metri con 45 tonnellate di acciaio che ha costituito lo scheletro proprio della realizzazione, cinque sale d'imbarco che cominceranno ad essere perfettamente operative dalle ore 10.30 con il primo volo per Fiumicino. Il senso dinamico della luce accompagna i visitatori attraverso questo corridoio di ingresso delle sale, all'interno delle quali possiamo godere di una costellazione luminosa. Sono 184 corpi illuminanti che fungono anche come barriera per il rumore, all'interno possono essere notate delle realizzazioni comunque molto semplici di fioriere, di attività che comunque è stata completamente progettata in house, quindi voglio sottolineare che la regione ha risparmiato anche l'Archistar. Oggi si inaugura il lavoro dell'Avancorpo di Lamezia Terme, un lavoro che è durato circa sei mesi e che abbiamo iniziato verso la fine di dicembre con parti di progettazione e parti in opera. È stato un progetto abbastanza innovativo e abbastanza complicato per le altezze. Questa è la parte del finger, tutti in acciaio e vetri, infatti è parte della nostra struttura che è la M969, acciaio e vetri, pacciate e vetrate. Poi abbiamo la parte dell'arrostazione, come potete vedere la complicazione è nella parte dell'altezza che è 14 metri e mezzo fino ad arrivare a 5 metri e mezzo. Sono travi da 35 metri, poggiate su strutture in acciaio, in telaiate chiaramente, e tutta la superficie sud, est e ovest è vetrata ed è stata costruita all'interno dei nostri reparti produttivi dalla M969. Il progetto prevede la realizzazione di 5 gate, che è la sostituzione di quelli esistenti, che al momento saranno utilizzati come partenze, ma successivamente saranno arrivi. Anche nelle scelte tecniche, come il parapetto vetrato, sempre proposto dalle nostre aziende, che è meraviglioso dell'asciuco, insomma, sono tutte soluzioni dove praticamente non ci sono elementi ostativi, ma la visuale è completamente libera. Qui alla fine della rampa è stato proiettato quello che sarà l'intero lavoro di ristrutturazione e di innovazione dell'aeroporto, dove in pratica questa è la vecchia aerostazione, e questo che sembra grande è quello che noi abbiamo realizzato e questa qui è la nuova aerostazione che sarà di 16.000 metri quadrati. La nostra è di circa 1.900 con le varie tettoie, quindi è l'inizio del cambiamento di la mezzia terme e noi come azienda Davat a Dei siamo stati i promotori. Una delle cose più complicate che abbiamo avuto sul percorso lavorativo è stato il fatto che noi siamo in outside, il che vuol dire che praticamente chiunque entra in questo luogo di lavoro deve essere istruito con due corsi, il 13 e il 31, per normativa di sicurezza internazionale chiaramente, per cui la complicazione nasceva proprio al fatto di accedere fisicamente nel luogo di lavoro. Tutti gli operai sono stati istruiti, hanno fatto degli esami, chi non aveva il corso era scortato giornalmente con permessi provvisori e come puoi vedere noi siamo praticamente a contatto con la pista e quello è un jet flag, praticamente sono i deviatori di flusso dell'aereo ed eravamo a contatto a pochi metri dagli aeroplani per cui abbiamo dovuto montare barriere cesate alte 3 metri onde evitare che l'area ci raggiungesse in una maniera tale che diventava un problema ai fini lavorativi. Quindi chiaramente avevamo queste cesate alte 3 metri e la complicazione era anche dovuta al fatto che noi dalla normativa internazionale tutti i materiali dovevano essere allocati ad una distanza di 5 metri minimo dalla perimetrazione per cui nulla doveva stare a contatto con il pubblico che passava. Quindi c'è stata un'accortezza massima a livello di sicurezza e di gestione di cantiere che è al di sopra di ogni aspettativa di un qualsiasi altro cantiere. Sono molto contento perché in Calabria siamo riusciti a realizzare in tempi molto veloci questo primo modulo del nuovo aeroporto internazionale di Lamezia e sono molto soddisfatto anche perché la Calabria si può segnalare come una regione di eccellenza anche grazie al fatto che l'azienda che ha avuto in appalto questo manufatto è riuscita a rispettare il cronoprogramma mi pare sia un'impresa abruzzese quindi potremmo dire che la Calabria e l'Abruzzo tante volte raccontate come regioni incapaci di essere eccellenti hanno dimostrato di essere insieme a regioni eccellenti. Sono Andrea Coletti, sono coordinatore e montatore delle facciate continue, le bussole, vengo da Poggio Vicenze, sono dipendente e coordinatore dell'M969 sono qua da circa due mesi e mezzo mi sono occupato di più lavorazione oltre alle facciate continue, le bussole mi hanno incaricato di altri lavori tipo tappi di legno lamellare all'esterno più rifinitore di lamiera e quant'altro. Sono Clarissa, un'ingegnere dell'Edel Motor che fa parte del consorzio La Mezzia Scarle e mi sono occupata di tutta la parte burocratica delle sottomissioni dei materiali, della logistica di cantiere e della parte noiosa praticamente. Sono stati sei mesi di lavoro intensissimo dove siamo riusciti a realizzare un edificio totalmente innovativo con ricerca di materiali e di soluzioni sicuramente innovative però per esempio tutta la parte in acciaio è stata realizzata direttamente qui in Calabria con un'ottima esecuzione di alto livello e di assoluta precisione e quindi tutti i pilastri e le travature in acciaio sono totalmente calabresi, così come i calcestruzzi. In legno invece abbiamo questa importante copertura con travi a doppia curvatura che vengono dal Bresciano, da Edolo e il solo trasporto è stato sicuramente molto impegnativo trasporto eccezionale che ha impegnato giorni per poter portare travi di questa importanza fino alla mezza terme. Un grazie nostro a tutti gli operai, le maestranze che hanno lavorato duramente in questi mesi per dare finita l'opera nei tempi che ci eravamo stati dati assegnati e sicuramente credo sia un orgoglio per tutta la regione che si possa volare con una delle infrastrutture più moderne che abbiamo nella nazione. Salve, sono Antonio Nistico, sono di Catanzaro assunto con la Lamezia Airports Car e mi sono occupato della canteristica, operatività di tutte le esecuzioni dei lavori e coordinamento degli operai di tutte le varie squadre e subappaltatori che erano all'interno del nostro gruppo. Ho gestito all'incirca 70 persone tra elettricisti, canalisti e tutte le opere edili sempre in coordinamento con gli altri responsabili di Dava e M969 per quanto riguarda le facciate Sfè e gli impianti elettrici che sono tutte le aziende che fanno parte del nostro gruppo. Buongiorno, sono Alessandro Bonnelli della Sfera e Trompianti del gruppo che ha partecipato alla costruzione della struttura. Ci siamo occupati della parte impiantistica sia elettrica che meccanica con i nostri appaltatori locali della Ecotec e della meccanica. La particolarità è che questo serpentone è stato disegnato direttamente dal presidente della stazione e noi l'abbiamo realizzato come lui piaceva. Tutta la parte illuminazione è basata su sospensione circolare e sono circa 200 e passa lampade. Ci sono anche dei fasci di luce in verticale che danno il senso di un quarto di luna. Tutta la parte è domodizzata quindi in base alle temperature e all'intensità luminosa viene abbassata o aumentata in base all'orario e alle esigenze. Tutto il resto è sotto domodica quindi praticamente gestita tramite remoto dalla sala operativa.